aah ha ha ecco, 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 fine della cinematica, ora faccio anche a giocare oh no, ecco un'altra testa calda, ma non è possibile, sono dappertutto e ci sparano a tozzo, originale per dei cattivi e allora, si acchiappano i cosi rossi, ok? non si può girare intorno all'infinito, mi verrà una crisi epica ok, non si è andato troppo male, per il disturbo voglio affronti il tuo primo lancio col paracadute senza paracadute allora, come va, salsicciotto? ah ah, no, sto scherzando, sei molto sexy così lo sai, ma quando è che ti levi le calze? dai, non prenderla così, guarda che cosa ho trovato il manuale qui c'è tutto, se leggiamo scopriremo come cavarcela allora c'era una volta il loom, l'armonia, l'amore, la pace ah, ma è una scenettatura all'improvviso, andrei e trasforma il loom rossi in udlum il mondo è in pericolo ah, ecco, qui dice che Globox se ne è andato con le tue mani beh, fifone com'è, sarà nascosto da qualche parte ah, non sarà facile mettergli le mani addosso, soprattutto per te a proposito, ho dimenticato di dirti, ogni tua azione ti fa segnare dei punti ecco, guarda il contatore, ti faccio vedere quando segni dei punti, compare l'indicatore e passi in modalità combo è qui che si fa interessante, perché in modalità combo le tue azioni valgono molto di più ma non esaltarti troppo, perché la modalità combo scompare se non segni altri punti ultima cosa, i punti fanno accedere a dei livelli nascosti quindi cerca di fare il punteggio migliore beh, il manuale non è straordinario ma cercando bene si dovrebbero trovare due o tre corsetti ecco, qui dice che per saltare bisogna utilizzare il pulsante di salto ma davvero? chi l'avrebbe detto? e qua dice che per attaccare bisogna premere il pulsante di attacco! bravo! su serio? pagano davvero della gente per scrivere queste stupidaggine? che lascio al l'indicatore Non c'è un secondo da perdere! Dobbiamo riacciuffare Andrei prima che raggiunga il cuore del mondo! Guarda, dei salvatanai! Non sono indovino, ma ho idea che contengano qualcosa! Bene, in maggio dovrai rimontare! Tornare al concilio alle 5 del mattino con un colpo al naso certo non deve essere facile! Non perdiamo tempo! Mi va della sopravvivenza di tutti i popoli! Ditemelo se esagero, eh? Presto! Andrei si appiccina al cuore del mondo! Eishedespiando le alzio! Iscriviti al piatto! Ehi! Ehi! Direi! Ehi! Ehi! Grazie a tutti. André! Ma dov'è André? Andiamo a chiedere ai monaci. Il cuore! È là che sono concentrate tutte le energie del... Apparentemente André non la tocca. Oh, shit! 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 Sommo dare! Sommo dare! ... ... Globos! O mi dai da bere! Dios! Piro il destino! ... ... ... ... ... Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! 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 Socorro! Grazie a tutti! 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 Ehi, e... farò... Comunque... e... 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 raiwan... e... è sempre lui il più forte... e anche il mio migliore amico! E... e anche il mio migliore amico! Grazie a tutti. Oh no, questa volta non ci vado, ho paura dei vettori. Oh no, questa volta non ci vado. 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 Oh no. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sfidarlo? Detto ciò, sono certo che il tuo amico brillerà nell'arena quando Reflux gli darà fuoco e incominci la lotta! Grazie a tutti. 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 No, no, no! Grazie a tutti. Tutte le volte che c'è da salvare il mondo rotto di glute. La scorciatoia fa una scorciatoia fa una scorciatoia fa una nuova deviazione. La scorciatoia fa una nuova deviazione. Ho la sensazione che tocchi di nuovo a me. la scorciatoia fa una scorciatoia fa una scorso di ragazzi. Arrivate tardi il reflux e André, si sono già imbarcati Beh, se riescono a invocare il leptis, riducono il mondo in fumo Cato, prendete la barca e riacciuffateli André, il mio piccolo André, veniamo a cercare Questa è un po' di più 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 Reymor, arriviamo! Ritroveremo André! Siamo il re del mondo! Ritroveremo André! 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 E' congelato! Devi arrivare più prima di me! André è di là! Ne sono certo! Una buona madre sa sempre cosa combina il suo bambino! Ancora! Buongiorno! State entrando nel quartier generale di Black Lusa! Temperatura esterna, meno 52! Temperatura interna, 37,2! In aumento! Quanto è più grande! Non lo voro accionare! Prendi che... Quanto più. Prendi che... In questo modo iscrivile il suo bambino. Quanto più? Oh... Quanto più? Non ti capisco, non ti capisco. Grazie per la visione 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehi, rieccoci al punto di partenza. Almeno si potrà dormire tutta la notte. Ma cosa ti succede? Eh, Andrè... Mi manco. Sai, ora è più felice. Guarda i lumrosi come sembrano contenti. Me ne frego. Voglio Andrè... Non so se è una buona idea. E poi non saprei come fare. Devi spaventare un lumroso. Parli di un'idea? Mi chiedo che potrebbe divertirsi. E poi... E poi... E poi... E poi... Ah! 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 Rime! Presto! Svegliati! A a a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.